ciao a tutti e benvenuti se siete su questo video vi siete posti la domanda che va per la maggiore tra gli utenti di team ovvero come incorporare un video youtube dentro team senza mettere direttamente il link nei post o nella chat per condividerlo con gli utenti del vostro team o della vostra classe per mostrarvi come fare avvierò una piccola riunione tra due partecipanti selezioniamo il nostro team in questo caso io ho chiamato cesin entriamo nella nostra stanza della riunione quindi dentro il nostro team come vedete c'è generale post file wiki e il tasto più premete il tasto più e vi apparirà la finestra con aggiungi una scheda possiamo scrivere direttamente il nome della scheda che ci interessa oppure se siamo fortunati la troviamo già tra le prime quindi ci sono le recenti in questo caso è perché io ho usato youtube recentemente ma c'è anche una vasta lista di applicazioni da poter utilizzare incorporare in team quindi selezioniamo youtube e apparirà questa finestra di ricerca qui possiamo mettere direttamente o il link del video a cui siamo interessati quindi andando a copiarlo da un browser oppure possiamo fare la ricerca scrivendo o il nome dello youtuber che ci interessa o se conosciamo il titolo del video che ci interessa oppure semplicemente scrivendo l'argomento che ci interessa lui ci rilascerà una lista di video consigliati ne selezioniamo uno quello che del nostro interesse e clicchiamo su salva e in questo modo il video è incorporato dentro team quindi apparirà la schermata con l'anteprima e possiamo guardare il video direttamente sul team fatto questo se condividiamo il nostro schermo possiamo anche mostrarlo a chi sta seguendo la riunione ma adesso vi faccio vedere cosa succede ad un eventuale utente che è iscritto al nostro team alla nostra classe e vuole andare a guardare il video in un secondo momento in questa piccola finestra che vedete alla vostra destra io sto mostrandovi quello che accade ad un utente che sta partecipando alla riunione su team e vuole vedere il video indifferita quindi non è non sta seguendo direttamente la lezione la riunione ma vuole andare a vedere cosa avete incorporato come vedete i due video non stanno seguendo insieme quindi non è la condivisione dello schermo del docente o del relatore ma sono due visioni separate naturalmente il relatore può mostrare il video agli studenti condividendo il proprio schermo e naturalmente attivando l'audio del computer in questo video l'audio è disattivato per permettermi di parlare e non avere la voce coperta dai video che vi sto mostrando possiamo anche rimuovere il video inserito basta andare a cliccare sempre sul team e selezionare il video che non ci interessa più e cliccare rimuovi con questo io concludo il video spero di aver chiarito i vostri dubbi su team e sull'incorporamento dei video di youtube se avete delle domande da fare o dei dubbi scrivetele pure nei commenti risponderò appena possibile vi invito a condividerlo e soprattutto a lasciare un like a questo video in modo da permettere all'algoritmo di youtube di indicizzarlo e di farlo apparire tra i primi risultati di ricerca da Enrico è tutto e alla prossima